Bene, io finalmente sono tornato. Dragon Trainer Ryu è ritornato con la sua guida... Cioè con la sua Nesbox Challenge, Pokémon Giallo. Sì, è da molto che non mi faccio sentire, eh? Mi sono preso una lunga pausa, ma ora è arrivato il momento di ritornare in pista. Durante questa lunga pausa sono successo un paio di cose, ma la cosa più bella che mi è successa è che è arrivato finalmente Pokémon X. Sono rimasto tre giorni appiccicato a quel Nintendo, ma ce l'ho fatta ad arrivare alla settima medaglia. Praticamente niente, lo so che dovevo fare una guida su Pokémon X, ma praticamente con questa lunga pausa e la telecamera che mi si era rotta, non ho avuto né tempo né opportunità. Dunque, noi eravamo rimasti con i Pokémon al 52 e Arcanine al 51 e dovevamo ottenere la sesta medaglia. Poi la Silksu, quella che l'avevamo già salvata. Tossino. Bene. Sono un po' arrugginito perché sono rimasto in troppo tempo a Pokémon X. Tre giorni però, molte ore. Dunque, comincierei subito ad aprire il culo a questo povero malcapitato. Conosce solo un ossetivo fogo. Ditto. Va bene. Raiju. Eh, un Pokémon che stiamo scappando. No, quindi, va. Eh, eh. Godo. Ok. Mi sono distratto. Dragon vince 330. Poche soldi. Dunque. E ora... Ogni volta io in questa palestra mi vado a confondere, gente. Quindi, camminerò un po' a caso. Jinx. Perfetto. Arcanoine non è voluto aprire salire il livello. Mettiamo un Gattelio. Va bene. Magmar. Cambiamo e mettiamo Arcanoine. Turbofuoco. Turbofuoco. Turbofuoco, brutti idiota. Perfetto. Mach. Starmi. Doppio ago. Surf. Cazzo, sbagliato. Vabbè, l'abbiamo sconfitto con le A. Con le mie classiche botte di culo, c'è. Non l'avevo previsto. Q. Vabbè, sì. No, no. Attenzione. Grotto. Tenta se il culo, troppo. Sailor. Vabbè, questa non è stata affetta da random laser. E dai. Messaggino. Cazzo. Cazzo, mentre avevo la pausa. Scusate un secondo, perché. Intanto metto in pausa, perché sarà un messaggio che ci metterà un po'. Allora, dovevamo sconfiggere lei. Che anche lei non è stata affetta da random laser. Vai starmi. Mega pugno. Wow. Slombro voglio mettere al primo. Inspira fiducia. E' giusto. Forza. Ancora forza. Macho. Ehm. Psichica. Arbock. Comunque, se volete un giudizio su Pokémon X, anche se sono sicuro che tutti l'avrete già preso. E' una figata pazzesca. Prendetelo. Ma, non era avvelenato. Curio totale. Era pulciato. Comunque, è una figata pazzesca. Ce l'ho fatta. Non sono ricordato come si arriva a capo palestra. Dopo svariati tentativi. Dicevo, è una figata pazzesca. Io c'ho Green Ninja. C'ha riservi con la mega pietra. Garchomp. E l'evoluzione. Du Blade, ecco. L'evoluzione di Onege. E mi serve una nera pietra per farla evolvere. Raichu e Simi Sage. Si possono catturare un sacco di Pokémon. Io ne avrò incontrati... I Pokémon ne avrò incontrati... Selvatici almeno 199. E allora. Tornando a noi. Psichico. Psicca. Ora mi serve doppia ogo di stabni. Visto che ti psico in questo gioco subiscono danno super efficace. Charizard, wow! Subiscono danno super efficace solo da... Mostri tipo colotto. Charizard se l'è... Pigliata nel culo. Bene, sì. Di quello 70. Questa è una onda. Raffa un culo. No, devo rifare tutto. Non si può usare fossa. Ti prego. Aspetta. C'è un po' come... Uno scafo secco. FATTE TE! Devo rifare tutto. Continuerò... A spagare a... Cazzo can. Mi sono mancate le mie parolacce. Vero? Niente. Ok. Poi lo verrà l'uno. Scherzo sto facendo. Sto parlando della sua... E non ho neanche fune di fuga. No. Di nuovo da te. No. Tutto zocco. Tu. La tua palestra di... Chiapor. Caccio il tuo mondo. Oh, ci ho fatto. E ora. Ok. Tu. Tu. Ma vaffaccolo. Salviamo. Dragon. Superdito. Ora. F***e. Mi scambiamo colore così per un passo. Dunque noi praticamente dovremmo arrivare a... vabbia capilla di occhi dc il chiempie non lo so però ci deve essere un modo per rarci c'è c'è biciclino biciclettino biciclino ok si lo so sto impazzendo sto impazzendo non è che stai impazzendo tu sei già pazzo dragon artigliati si sto parlando da solo sto impazzendo c'era scritto schoolgirl in quell'allenatore che abbiamo appena affrontato schoolgirl dimmi che cosa c'hai di femmina tu dimmelo dimmelo sono un insano di niente un peccato l'unica cosa che mi dispiace è che non sono potuto andare a luca comics perchè vivo in sicilia mi fa bestemmiare mi fa bestemmiare tiokann un tipo di ballo eh si però la gente... depositiamo l'ombro aveva uno schiaudo zombie se non sbaglio farfetch... che cazzo porca vacca non mi dire che ci... non mi dire... se lo faccelo, ah vero scusate giocando a tutti un percorso facciamo l'atturato c'è qualcuno se non voglio, vabbè, non c'è un gioccio vabbè, non mi interessa qui andiamo avanti sul prossimo percorso vediamo, moviput oh, mi vuole da affrontare? metaput ma che cazzo è? ho piglia mosche vediamo vediamo li sto usando tutti ma c'è lazione non so scherzo non puoi lottare maledetti Magikarp, non ne hai mandato in campo neanche uno eeeh usa una mossa dio de dio non mi farebbe non reggevo qui turbo fuoco eeeh se pupa me la fa gioc con fulmine da un sconfitto un charizard ho già il mega charizard x è una figata pazzesca gente chiunque l'ascolto ha un nintendo 3ds ma non ha pokemon x ma non ha pokemon x o y per usare a roko io ce li ho già tutti e due oh 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 si va bene, sono uno stronzo oh, voi pure non mi interessi perché ti ho già onyx mega sapimento bella 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 attenta bella 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 ahhh hai c'entra un medico per pokemon Per Focchetto Monsta Focchemon, la pagina Focchemon Sì, dimmi cos'hai Oh, dei pei soltoni Ora io mi ricordo che Per La fottuta medaglia di nerd Ci serve Guardate, cammiamo da soli E c'è un altro peccetto Poincidenza, io non credo Non ho abbraccio Io come cazzo Cazzo, cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Cazzo, cazzo 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 Usate un secondo Hello Eh, che palla, la porta è chiusa Sì, praticamente all'isola Cannella per poter entrare In quella fottuta palestra Dovremmo andare a prendere una Chiave di nerd Che cazzo sto facendo Sto confondendo Mi sto appinando Pupupu Ultrapaw Prendiamo 10 Oggi sono fissato col 10 Ora qui c'era uno che sbloccai Che faceva rianimare i fossili Fossili Sì, sì, sì Un interruttore Un interruttore di Ezekli Un puntante segreto Devo premerlo Sì Chi non lo farebbe Oh Io Non 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 c'entrerei mai Qui dentro Quindi non prenderemmo Ho trovato del calcio nel culo Un gol batto Il calcio su giochi Così gli speciali salgono E con Un bel fulmine Gli avversari ci pupperanno la fava Bene 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 Ma da perché ho sentito questa frase pupperà nella fava? Dragon Trainer e tutti i suoi vuoti di memoria Al cinema No scherzi Al cinema Fanno Ehm Smiley Che è un film horror E perché cazzo ho salvato? Ehm 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 Enter Ehm Ehm la gente attenzione e allora chiam giocino ora non mi ricordo di sicilio di qua il sito tc cazzo del carburante mentre la veloci per a quindi un poco molto lento tu come prani su di un prende lento 2 spero aerodactyl e ti presenti adesso per andarvela a prendere nel culo un pulsante segreto dovremmelo certo brutto stronzo non ti cagavo stato di merda non credi bora burra a un terrore anche tutti i presenti solo ora brutto stronzo m fulmine poli ancora fulmine e rime rime ma si presentano solo ora tutti muncini eeeh pam fulmine ma ancora fulmine ok giochi un sale e mi mettiamo davanti allora baypodium che il pokemon che c'è sovravvissuto per più tempo beh 222 punti vita poi hai imparato cova uova mi cacazzi c'è stata una volta in cui ho imparato cova uova non so se ve lo ricordate tutti non credo non mi avete neanche cagato in questi tempi che non ci sono mai stato vabbè che ho solo nuovi iscritti anzi non me lo aspettavo di fare nuovi iscritti pensavo tipo che a 4 si fermavano solo a raggio ma nessuno lo può imparare ma allora fottetemi chiave ascensore e mi sono dimenticato a comprare le fottute cazzo più resto qua più mi nervosisco perchè compaiono in zacchi pokemon belli a me mi è capitato un polygraph cioè non che è polygraph sia brutto ma in contattaciamiglione che ha erodattivo c'è voglio dire c'è eh beh eh vabbè seeeeeee e io come minchia ai suoi figli stronza non ah vabbè ho capito devo rispettare il gioco meno male che ho salvato ok per il gioco andare a comprare duecento funi di fuga perché io lo so ma me ne dimentico me ne dimentico che in questo gioco se non hai fossa o non hai funi di fuga 6 fattuto fuga che c'i sono con le ero il gioco che minchia però fudea spero che devo fare tutta questa strada per mezzo a fumi di fuga ne prendiamo 5 va ne prendiamo 5 e me ne sbatto di quanto dura la parte oggi me ne sbatto proprio può durare anche 30 anni fanculo tutto finisco l'esplorazione di questa caverna di merda oggi caverna cosa ti fumi trago cosa ti fumi fa culo la fuori di fuga c'era porco va bene va bene oggi questa questo qualsiasi cazzo sia questo laboratorio mezzo rotto ce l'ha con me ce l'ha con me keep calm keep calm è porco per 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 poco 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 va bene cart tu che cazzo vuoi tutto troppo non mi metterò il giro con le dvd mi faccio 4 risate coltre femmina ai non puoi dire ai non puoi non puoi non puoi cazzo cioè non puoi e anche mi sono rimesso a leggere quello che dite cazzo vabbè questo si è un luogo ideale per un laboratorio è già un laboratorio brutto stronzo non mi farei incazzare ok arriviamo a prendere la chiave leviamoci dal cazzo da questo da questo laboratorio di merda andiamo ero da tramella rara attenzione gente tramella rara vediamo allo stato sperando che questa palestra si mantenga di tipo fuoco perchè non so proprio dove cazzo come quando è questa palestra cazzo come quando è cazzo come quando è cazzo ma si incontrano tutte le evoluzioni di vita una una finalmente possiamo concludere anche questa undicesima parte della naslo è la undicesima o la dodicesima ora controllo noi ci vediamo alla prossima parte il mi piace mi raccomando il commento e iscrivetevi al mio canale dragon trainer io vi saluta alla prossima e statemi bene ciao 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 ciao